Noi era lì, seduto al pianoforte Tra desideri e amori che vivono una notte Si chiama Tre Scalini ed è il nuovo singolo in uscita lunedì 14 novembre con il quale Sara Sauta debutterà sulla scena nazionale. La cantante d'origine fiumefreddese nasce nel 1984. Inizia a studiare canto sin dalla più tenera età, prima sotto la guida dell'insegnante e celebre corista di Sanremo Lilla Costarelli per poi intraprendere un nuovo percorso di studi con Armando Nilletti. Negli anni partecipa a svariate competizioni e performance televisive e radiofoniche fra queste la notte festival per giovani emergenti su Rai 2 e il giro festival su Rai 3. Ai nostri microfoni racconta chi è Sara da un punto di vista artistico. Sono nata 23 anni fa a livello artistico, iniziato all'età di 8 anni e adesso sono qui pronta per un nuovo progetto. A livello artistico ho avuto varie esperienze che mi hanno formato e mi hanno portato a raccontare sia me stessa che la mia musica. Attraverso le parole sono anche una cantautrice, quindi scrivo sia le mie canzoni che le interpreto. La mia musica è un pop italiano naturalmente. È il mio nuovo singolo che parla dell'amore, dell'amore in tutte le sue sfaccettature, che sia un amore platonico, che sia un amore fugace, ma pur sempre pieno di emozioni. La vita personale si intreccia all'ambito professionale e il risultato è la volontà di trasmettere un messaggio. La musica è sempre stata una rivincita e lo è, soprattutto adesso, con questo nuovo progetto. Io racconto un po' di me stessa per quello che ho vissuto a livello personale. Non è facile raccontarsi per quello che si vive, però io non ho mai subito delle violenze fisiche, ma le ho subite quelle mentali, quelle che fanno male, soprattutto dalla persona che ti sta accanto, che ti fa sentire impotente. Però ce l'ho fatta, ho ricominciato da me stessa. Si può, si può ricominciare e soprattutto credere sempre in quello che si è, quello che si ha dentro. Quindi portare avanti un sogno, che sia un sogno, che sia quello che si porta dentro l'anima. Un'artista grintosa e passionale dal timbro vocale caldo, come la sua Sicilia, che canta attraverso il dialetto in alcuni lavori. Fra le più recenti collaborazioni, il duetto con Massimo Luca nel 2015 e la realizzazione di questo nuovo singolo disponibile da lunedì su tutti gli store digitali, scritto da due noti compositori e autori, Matteo Di Franco e Andrea Zuppini. Tre Scalini, che parla di un amore fugace, di un amore anche clandestino, che però porta e può portare delle vere emozioni, a scoprire anche un amore vero, perché no? Quindi è una rivincita, una rivincita per noi donne, io parlo per me stessa, una rivincita sul mio passato. Adesso che appunto ti sei avviata a un panorama più ampio che quello nazionale, quali sono i progetti futuri? Allora, intanto sto portando avanti questo, l'uscita del singolo. Cerchiamo di farlo uscire a livello nazionale su tutte le radio e incrociamo le dita. Una frase che voglio dire, in anticipo dell'uscita del 14 novembre su tutti i digital store, del brano di Tre Scalini è di essere felice non mi sono mai stancata. Quindi questo significa che non bisogna mai stancarsi e di cercare sempre, ovunque, la felicità. In chiusura possiamo dire cos'è per te cantare e la musica? Allora, la musica è fondamentale, è sempre stata la mia forza, quindi la mia vita.